Abbiamo incontrato Carlos Saura al 34esimo Festival dei Film del Mondo di Montreal, subito dopo la prima mondiale del suo ultimo film Flamenco Flamenco, accolto con 10 minuti di standing ovation da un pubblico delirante che l'ha poi seguito sempre applaudendo, fino alla macchina cosa mai accaduta in nessun festival. Il film, supervamente girato dal premio Oscar Vittorio Storaro, è una gioia per gli occhi, qualcosa di indimenticabile, a cui si continua a pensare anche molto dopo averlo visto. Cosa vuol dire maestro tradurre una passione e ossessione come la sua per la musica in immagini? Per me è facile perché adoro la musica, inoltre disegno, dipingo, scrivo, fotografo e sono convinto della stretta collaborazione della fotografia e della coreografia per la riuscita di un lavoro. Normalmente improvviso, conoscendo la musica e gli artisti che lavoreranno con me, quando entro in studio faccio solo una prova, guardo il numero e decido dove piazzare le camere. Grazie!